Sono l'ingegnere Maurizio Oriente, responsabile della sicurezza di questa scuola. Qui ci troviamo nel piano di fondazione dell'edificio Elvio Romano di Boiano. In particolare possiamo vedere gli isolatori sismici, in questo caso di tipo elastomerico, costituiti da dischi di acciaio e intervallati da gomma. Questi hanno una elevata deformabilità sul piano orizzontale e consentono quindi alla struttura in elevazione di oscillare durante il sisma. In particolare c'è un disaccoppiamento, un isolamento dal movimento del terreno rispetto a quello della struttura in elevazione. Inoltre nell'edificio sono anche presenti degli accelerometri che registrano tutti i dati collegati all'oscillazione dell'edificio e vengono trasmessi costantemente alla protezione civile. Grazie. 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 Grazie.